ciao a tutti e benvenuti nel bunker proseguiamo con la prospettiva centrale impostiamo finalmente un disegno quello che state vedendo velocizzato è lo schizzo di quello che vorrei rappresentare cioè una stanza in prospettiva centrale questo schizzo mi serve come riferimento solamente per avere un'idea di quello che voglio fare poi durante questo video imposteremo correttamente la prospettiva e quindi faremo tutta la costruzione con punti di fuga cerchio di distanza fondamentale e poi utilizzando la costruzione come guida faremo il disegno vero e proprio quindi imposteremo la line art e i colori per quest'ultima parte di disegno farò un video separato perché ha poco a che fare con la prospettiva se vi interessa più la colorazione nella line art vi rimando al corso di photoshop sul canale bene possiamo cominciare adesso che abbiamo impostato uno schizzo del disegno che vogliamo fare uno schizzo che non è assolutamente preciso è solo proprio una bozza un'idea di quello che vogliamo mettere dentro la stanza proviamo a riportare in vista dall'alto le dimensioni dei vari oggetti che inseriremo anche questa sarà un'operazione approssimativa però che ci aiuterà molto quando adesso andremo ad impostare la prospettiva quindi facciamo sin da adesso il ragionamento degli ingombri dei vari mobili dentro la stanza e delle dimensioni della stanza per farlo riutilizziamo la griglia come abbiamo fatto negli esercizi e disegniamo proprio dei soliti dei rettangoli per definire per esempio la zona del letto o la zona della scrivania allora per disegnarci una griglia a parte che possiamo importare qualsiasi immagine di un foglio a quadretti che troviamo sul web però con photoshop possiamo farlo in un'altra maniera per la verità è un meccanismo un pochino macchinoso perché photoshop ha già delle griglie preimpostate che però in questo caso non ci sono tanto utili vediamole comunque almeno sappiamo quali sono le nostre possibilità allora possiamo anzitutto attivare una visualizzazione a griglia se andiamo su visualizza mostra griglia e adesso sembra che abbiamo risolto qualsiasi problema perché ora abbiamo una griglia a quadretti direttamente sul nostro foglio questa griglia può essere impostata cioè possiamo scegliere il passo della griglia in questo caso di default credo che sia posizionata con un quadretto ogni mezzo centimetro per modificarlo andiamo su modifica preferenze guide griglie e sezioni eccolo qua la parte relativa alla griglia possiamo scegliere righe griglia ogni in questo caso due centimetri suddiviso in quattro quindi le righe più evidenti sono ogni due centimetri divise in quattro quindi ogni mezzo centimetro un'altra delle righe piccole in questo caso a me va bene però non è finita qua purtroppo perché che accade se proviamo a disegnare la griglia c'è molto comoda quando dobbiamo fare delle linee dritte vedete io sto usando semplicemente la penna non sto schiacciando shift sulla tastiera ma il mio cursore viene calamitato direttamente sulle righe della griglia il problema è quando faccio una riga né verticale né orizzontale quando provo a disegnare una riga inclinata ecco che accade cioè il cursore si attacca prima la parte verticale poi quella orizzontale ci disegna tutto scalettato è chiaro che non è questo che vogliamo è vero che potremmo anche impostare adesso una pianta utilizzando questa griglia qui però personalmente lo trovo molto fastidioso non credo ci sia un modo di disattivare la calamita la griglia quindi quello che faccio è ridisegnarmi una griglia anzi visto che la useremo abbastanza spesso mi creo direttamente un pattern con una griglia che poi posso utilizzare quando mi serve un pattern che rimane qui vediamo come si fa anzitutto faccio un nuovo livello poi prendo un pennello nero grigio non importa abbastanza sottile mi ripasso un pezzo di griglia per esempio possiamo farci un quadrato 4x4 anche 2x2 come come preferiamo insomma mi disegno una porzione della griglia mi seleziono sul livello della griglia la griglia che appena disegnato e schiaccio ctrl c per copiarla negli appunti poi vado su file nuovo e creo un nuovo file di default ogni volta che faccio ctrl c e crea un nuovo foglio photoshop tiene in memoria le dimensioni dell'immagine di cui ho fatto ctrl c quindi in questo caso 237 x 238 pixel quindi un quadrato quindi quando creo il disegno ora posso anche nascondere le griglie quindi visualizza mostra griglia tolgo la spunta in automatico questo quadrato è grosso precisamente come la mia griglia quindi se faccio ctrl v copio il disegno che ho fatto prima ora per trasformare questo in pattern l'operazione è molto semplice basta andare su finestra pattern in questo modo richiamo la finestra dei pattern la finestra dei pattern è su photoshop 2020 la troviamo anche qui a destra finalmente è stellato photoshop 2020 comunque in tutte le versioni se non la trovate andate su finestra pattern e create un nuovo pattern schiacciando sulla più qui in basso la chiamiamo griglia in automatico vedete che mi ha preso il livello e diamo ok e adesso ho creato un pattern che rimarrà sempre salvato su photoshop qualsiasi foglio da disegno io aprirò questo foglio lo posso anche chiudere anche di qua posso cancellare il disegno che ho fatto prima deselezionare spegnere la griglia quindi visualizza mostra griglia via la spunta e adesso sempre sul nuovo livello posso utilizzare il pattern con lo strumento secchiello come se dovessi fare un riempimento con un colore lo strumento secchiello su photoshop 2020 nelle ultime versioni se non lo trovate qui nella toolbar a sinistra basta che schiacciate sui tre puntini lo trovate nell'elenco qui sotto oppure lo richiamate direttamente con il tasto g con lo strumento secchiello possiamo scegliere se utilizzare il colore di riempimento che ho selezionato oppure se utilizzare un pattern vedete come si è aggiornata la toolbar in alto quindi seleziono qui nel menu a tendina non primo piano che è il colore di base ma pattern e vedete che qui a destra posso scegliere che tipo di pattern ce ne sono molti di default io prendo quello che ho appena creato che vedete anche se l'ho creato in un altro foglio me lo ritrovo comunque qua poi seleziono l'area dove voglio disegnare la griglia e utilizzo lo strumento secchiello direttamente nel mio rettangolo per colorare come se stessi proprio colorando tutta la zona solo che non la riempio con un colore ma con un disegno che si ripete adesso deseleziono e ho una griglia di base che non ha niente a che fare con la griglia di prima cioè sia le stesse dimensioni ma è disegnata abbassiamo un pochino l'opacità del livello così non ci dà troppo fastidio e poi lo blocchiamo quindi clicchiamo sul lucchetto per bloccare il livello lo rinomino ci scrivo griglia così poi non lo confondo con gli altri livelli e crea un nuovo livello dove disegno in vista dall'alto le dimensioni della stanza vi ripeto sempre in maniera approssimata adesso con questa griglia sotto bloccata posso disegnare come voglio è solo una griglia di sfondo così ho un po più libertà cioè se voglio posso fare un modulo da mezzo quadretto posso insomma andarci a disegnare veramente come su un foglio a quadretti ok è il momento di prendere un po di un paio di decisioni su quanto è grossa la stanza e sull'ingombro delle varie parti ok facciamo un po di prove vi ripeto disegnate sul nuovo livello non sul livello griglia in questo disegno ora io andrò a posizionare di sicuro la dimensione del letto poi la scrivania nello spazio restante inserirò una poltrona cercherò di non lasciare troppo spazio tra le varie parti altrimenti il disegno verrà un po troppo vuoto poi dovrò indicare anche dove si trovano queste travi superiori le indico con una semplice linea a terra quindi mi faccio uno schema come quello che abbiamo usato per gli esercizi faccio anche poi una vista frontale per capire le altezze delle varie parti e imposto la linea dell'orizzonte cioè a che altezza voglio guardare questa stanza quello che non imposto adesso è la distanza dal piano di quadro dell'osservatore quindi non imposto ora il cerchio di distanza per quello aspettiamo un attimo vi spiego poi come dobbiamo ragionare per trovare la misura corretta ok ho fatto uno schemino molto piccolo molto semplice di quello che voglio inserire nella stanza semplice però ho messo tutto allora cominciamo dalla vista dall'alto ho inserito più o meno la dimensione del letto della poltrona la scrivania e qui ho inserito un altro mobile probabilmente metterò una libreria poi mentre cercavo di calibrare il tutto ho pensato che forse sarebbe meglio rappresentare su questa parete anche un'altra finestra tonda così vediamo come rappresentare i cerchi anche nei muri verticali e non solo nelle facce orizzontali ho inserito quindi la posizione delle finestre più o meno non dobbiamo essere precisissimi e poi siccome qui di molto importante nel mio disegno c'era anche tutto il soffitto con le travi ho impostato più o meno la posizione delle travi cioè metterò quelle orizzontali qui uno due e ne inserirò una terza che probabilmente sarà fuori dall'inquadratura quando disegniamo in prospettiva allunghiamo sempre un pochino il disegno quello che ho rappresentato io nel disegno arrivava fin qui però siccome poi dovremo ritagliare l'immagine sempre meglio tenerci un po più larghi quindi adesso io rappresenterò la stanza fino a qui ho messo tutto quello che creava ingombro a terra non i particolari molto piccoli ma gli oggetti più grandi tra l'altro i particolari molto piccoli ancora non li ho nemmeno definiti il soffitto di questa stanza è a capriate non me lo sono inventato ho cercato dei riferimenti con delle foto di capriate ho cercato di capire come erano fatti quindi in base a quello ci saranno sempre delle travi orizzontali che ho inserito in questi tre punti e delle travi nell'altra direzione sempre alla stessa distanza in base a questa scansione delle travi ho posizionato anche le finestre sul tetto nel mio disegno ne avevo fatta una qui siccome ho allungato un pochino la vista ho inserito anche una seconda magari si vedrà solamente in parte scorciata il disegno che ho fatto io comunque non è un rettangolo visto che il tetto è inclinato invece il foglio da disegno probabilmente lo posizioneremo così quindi ci sarà modo di vedere anche un'altra parte della stanza qui probabilmente con un pezzo di finestra che sborda in questa maniera quindi disegniamo sempre più in là di quello che intendevamo rappresentare poi tagliamo infine cosa non meno importante ho impostato già da adesso le altezze avremmo anche potuto farlo dopo dopo aver messo in pianta tutto il disegno cioè l'ingombria a terra però così intanto mi do già un'idea di quello che verrà fuori dopo non dobbiamo fare un disegno architettonico preciso questo non è importante però un minimo bisogna rispettare le altezze io ho immaginato che ogni quadratino corrispondesse a mezzo metro quindi un letto per esempio è più o meno lungo due metri l'altezza di una stanza è più o meno tre metri quindi ho preso il punto più alto sui tre metri vi ripeto ha in maniera approssimata però dobbiamo fare attenzione se avessi messo questa trave a questa altezza nessuno sarebbe riuscito a passarci sotto considerando la misura degli altri oggetti cioè del letto della scrivania perciò un minimo di attenzione alle dimensioni bisogna prestarlo e questa è l'altezza delle finestre ok abbiamo praticamente tutto per impostare il disegno salvo mi tengo questo come schizzo faccio un nuovo foglio io di solito lavoro con gli a3 ma poi ci sarà sempre modo di ingrandire o rimpicciolire il disegno risoluzione ricordate sempre 300 pixel pollice che è la risoluzione di stampa il profilo colore lasciamo l'rgb l'rgb è il profilo colore che ci serve per lo schermo quindi tutte le immagini che vanno viste a schermo si vedranno nel profilo colore rgb quelle che vanno stampate dovrebbero essere create come cmyk non ve lo consiglio comunque perché la maggior parte delle immagini non le vediamo a schermo e su carta verranno comunque diverse perciò tanto vale lavorare con un bel profilo colore vi faccio vedere la differenza tra il profilo colore rgb e cmyk che è quello della stampa guardiamo i colori pieni guardiamo il rosso il rosa il giallo vi faccio vedere che succede quando trasformo il profilo colore in cmyk immagini metodo qui possiamo modificare colore rgb adesso lo sposto su cmyk guardate come i colori si sono spenti quindi siccome noi lavoriamo a schermo io mi terrei sempre sul profilo colore rgb allora adesso mi porto dal mio foglio precedente questo schemino di riferimento e la griglia con le mie con la mia pianta e il mio alzato seleziono il disegno control c e control v nella nuova tavola lo metto in un angolo piccolo in maniera che non ingombri ma me lo tengo sempre come riferimento invece quello che ci serve di più adesso sono le due viste anche queste me le porto di là insieme alla griglia la griglia magari la sblocchiamo e la ritagliamo solo dove ci serve cioè qui seleziono la parte che mi serve poi schiaccio tasto destro selezione inverso così che seleziono solo la parte esterna della mia selezione e schiaccio cance per cancellarla poi deselezione per portarmi tutti e tre i livelli quello con i disegni quello con la griglia nell'altro foglio basta che sposto la finestra di disegno la metto qui di lato seleziono i tre livelli che mi servono li prendo e le trascino nella tavola sotto poi riporto la finestra di sopra e questa volendo la posso anche chiudere i tre livelli con la pianta e lo schizzo li metto tutti su un gruppo così non mi danno fastidio quindi creo gruppo qui sotto sull'iconcina della cartella lo chiamo schizzi costruzione come vogliamo e prendo e trascino tutti i livelli nel gruppo vedete che sono nel gruppo quando si spostano un pochino sulla destra quindi prendo trascino vedete si spostano tutti a destra e se chiudo il gruppo ne ritrovo tutti dentro poi inoltre posso anche volendo collegare questi tre livelli schiacciando qui sulle catene il collegamento semplicemente me li fa spostare tutti insieme anche se ne seleziono uno sposto tutti i livelli collegati comunque idem per il control t quando li streccio quindi sono collegati e anche questi me li posiziono qui a sinistra facciamo una riflessione sugli schemini questa pianta è di 7 per 7 quadretti ho cercato di tenermi sulla figura del quadrato perché come avete visto è sempre molto più semplice poi la taglierò comunque qui non è un problema però intanto rappresento così con il quadrato ora qual è la giusta posizione del cerchio di distanza di sicuro dovrò piazzare il mio quadro qui attaccato ai 7 quadretti poi dobbiamo decidere se guardare la stanza dal centro o un po di lato io magari mi sposto un pochino sul lato quindi o lo metto un pochino più a sinistra ricordiamoci poi che il cerchio di distanza deve inglobare tutto il disegno altrimenti abbiamo una prospettiva berrata e che la dimensione del cerchio di distanza ci dà la profondità del disegno scegliamo anche l'altezza dell'orizzonte e la scegliamo qui sul fronte io non mi metterei troppo in alto altrimenti sembra che sto guardando la stanza da sopra una trave ma nemmeno troppo in basso mi metterò ad un'altezza media quella di una persona seduta che più o meno è qui quindi mi posiziono più o meno qui per guardare la stanza adesso se vi ricordate dalle lezioni precedenti come cominciavamo ad impostare la prospettiva posizionavamo fondamentale orizzonte alla nostra altezza poi se dovevamo rappresentare un cubo ci tiravamo qui sulla fondamentale le altezze della faccia quindi disegnavamo proprio la faccia sulla fondamentale e mandavamo in fuga allora la prima cosa da fare per semplificarci di molto la vita è riportare la vista di fronte direttamente sulla fondamentale non abbiamo ancora scelto il nostro cerchio di distanza allora prendo solo la vista frontale così capisco anche quanto ingombra il mio disegno faccio control c control v e la copio così in automatico photoshop me la copia sul nuovo livello questo livello lo porto fuori dal gruppo degli schizzi perché qui cominciamo a fare la vera costruzione del disegno in prospettiva ingrandisco questa vista più che posso nel foglio non vi preoccupate se si sfoga questa ci serve solo come guida abbassiamo anche l'opacità anzi così non ci dà fastidio e in base a questa impostiamo tutto il sistema prospettico quindi facciamo un nuovo livello solo per il sistema prospettico cioè con l'orizzonte la fondamentale la fondamentale la mettiamo proprio qui a terra e l'orizzonte abbiamo detto lo avremmo messo a questa altezza spostato sulla sinistra ora per non sbagliare possiamo riportarci anche la griglia con le misure un pochino più precise qui in basso la griglia la metto sotto tutti gli altri livelli lasciamo adesso in pace il livello del gruppo degli schizzi che abbiamo messo qui in basso a sinistra tanto per riferimento e scalo la griglia sulla dimensione corretta quindi la larghezza è 7 la griglia è così anche la griglia mi raccomando opacità molto bassa la lasciamo dietro solo per la costruzione così facciamo dei disegni più corretti continuo sul livello della costruzione prospettica abbiamo detto che l'orizzonte si trova qui un pochino spostato a sinistra anzi forse è un po più interessante metterlo spostato sulla destra ci ho ripensato lo mettiamo qua ok adesso senza fare troppa confusione ci possiamo già tirare le tracce di tutte queste rette in fuga che ci danno la griglia ce li abbiamo già qui sulla fondamentale perché corrispondono ai quadretti della griglia che abbiamo appena importato faccio un altro livello per le tracce teniamo la dimensione del pennello abbastanza piccola in maniera che poi queste tracce non ci ingombrano passiamo alla scelta del cerchio di distanza abbiamo detto che la prospettiva non deve essere abberrata quindi già da qui abbiamo visto qual è l'ingombro generale perciò di sicuro dovremo tenerci con un cerchio di distanza all'incirca così in maniera che tutto il disegno si trovi all'interno e questo potrebbe essere già un modo di ragionare altro modo per non diventare i vittimi di questo sistema le regole geometriche sono molto rigide ma voi le dovete piegare alle vostre esigenze quindi altro modo è scegliere la profondità che volete della stanza vi spiego ricordate che la dimensione del cerchio di distanza modifica la profondità degli oggetti quindi se io avessi una stanza così ampia quale sarebbe il cerchio di distanza basta che mi tiro la diagonale e questa è la fuga a 45 gradi quindi guardate qual è il mio cerchio di distanza questo molto piccolo infatti questo non sembra assolutamente un quadrato sembra molto più grande molto più lungo la dimensione della mia stanza più o meno dovrà stare qui io credo che sia una buona dimensione vediamo allora dov'è il cerchio di distanza all'incirca eccolo qua più o meno dove l'avevamo messo prima quindi questa potrebbe essere già una dimensione corretta allora teniamoci il cerchio di distanza di 1 2 3 4 e 5 quadretti quindi un metodo per impostare il cerchio di distanza è scegliere la profondità che volete dare al vostro disegno alla vostra stanza lo so che ora sembra poca rispetto al prospetto ma ricordatevi che tutte queste linee adesso andranno in fuga e quindi tutto prenderà un'altra dimensione quindi non vi fate ingannare ecco qua la larghezza del cerchio di distanza stavolta lavoriamo correttamente facciamo il cerchio di distanza con la forma cerchio strumento ellisse chi ha photoshop degli anni passati li trova sotto gli strumenti forme schiaccio al centro vedete che adesso il cerchio non me lo fa al centro mi riporta il centro su osi schiaccio alt ok quindi schiacciando alt disegno il cerchio dal centro per disegnare un cerchio perfetto invece devo schiacciare anche shift e allargo fino ad incontrare il numero 5 ora mi si apre subito la tabellina delle proprietà che sta anche qua sopra quindi li potete scegliere sia da qua che da là noi impostiamo un riempimento vuoto quindi sul riempimento clicchiamo il bianco con la sbarretta rossa vuol dire vuoto e una traccia rossa traccia vuol dire solo il contorno di 1 2 pixel non esagerate basta che si veda vedete che l'ellisse qui a destra nei livelli è un elemento vettoriale non mi serve che rimanga un elemento vettoriale quindi lo unisco al livello della costruzione prospettica tasto destro unisci livelli un altro metodo che avevamo per impostare il cerchio di distanza sul nostro schizzo è quello di prendere lo schizzo vero e proprio portarlo direttamente qui nella costruzione prospettica far coincidere più o meno questo schizzo con la dimensione della stanza ricordatevi che questa però non è una stanza quadrata abbiamo visto che la parte rappresentata qui è un po rettangolare ciò se lo metto un pochino più in alto e da qua verificare più o meno qual era la posizione del cerchio di distanza nel mio schizzo cioè io a terra avevo disegnato questo quindi se mi tiro la diagonale dallo schizzo mi trovo il cerchio di distanza è addirittura un po più ampio questo poteva essere un altro modo cioè dal vostro schizzo ricavarvi la dimensione del cerchio di distanza ok adesso tiro le due tracce in fuga retta di misura mi tiro la diagonale per trovare la profondità del quadrato della stanza quadrata prendo di nuovo il nero e ecco la profondità ora se lavorate a mano quello che dovete fare è tirarvi tutte quante le rette per riportarvi proprio la griglia a terra se lavorate direttamente su una griglia già posizionata in prospettiva sarà facilissimo disegnarvi tutti gli ingombri degli oggetti direttamente utilizzando la griglia a terra avete il vostro disegnino dall'alto come riferimento vi basterà seguire i quadretti poi per le linee orizzontali ce le avete già tutte ora zoom qui che forse si capisce meglio tengo la griglia per non confondervi quella che mi serve per gli alzati e qui su tutti gli incroci della linea diagonale con le tracce delle rette che vanno in fuga e no mi trovo tutti gli ingombri delle linee orizzontali e tutta la scansione orizzontale della stanza questo se lavorate a mano siete su carta non avete alternativa con photoshop facciamo ancora prima torno indietro a qui una volta definita la dimensione della stanza prendo la mia griglia me la copio perché una griglia verticale mi serve duplico il livello vengo una delle due griglie poi vado su modifica trasforma distorci quindi semplicemente faccio coincidere la griglia con i quattro angoli del quadrato e invio e abbiamo risolto in un secondo quello che tutti gli altri devono fare a mano adesso da qui chi disegna a mano che cosa fa alla griglia e in base a questa si ridisegna tutti gli ingombri a terra degli oggetti l'ingombro del letto è di quattro quadretti per due e mezzo più o meno quindi partendo da fondo uno due tre e quattro quadretti e fin qui e da qui lancio i no ecco l'ingombro del letto a terra poi l'ingombro della scrivania per esempio scrivania parte staccata un quadretto e mezzo da fondo quindi comincia da qua per trovare la metà ricordatevi fate sempre le diagonali del quadrato trovate la metà però in questa situazione potete tranquillamente andare ad occhio non stiamo a guardare le misure è largo un quadretto e mezzo di qui profondità tre quadretti in qui lancio sempre i no le rette che non ce le ho le devo lanciare per forza i no e questo è l'ingombro della scrivania e proseguite così se lavorate a mano se avete photoshop come avete strecciato la griglia vi strecciate il vostro disegno in pianta fatto sulla griglia quindi ci prendiamo torno sugli schizzi prendo il livello con lo schizzo seleziono solo la pianta ctrl c ctrl v per copiarlo sul nuovo livello porto fuori dal livello schizzi così lo separiamo questa è la pianta e di nuovo la scalo con ctrl t sulla dimensione sulla larghezza corretta di 7 quindi faccio coincidere qui a terra non vi preoccupate se le linee sono molto spesse questo al momento non ci interessa ci serve per avere un'idea degli ingombri e poi vado su modifica trasforma distorci e come abbiamo fatto prima facciamo coincidere i bordi con l'ingombro a terra facciamo attenzione perché stavolta non sono i bordi della selezione ma sono i bordi del disegno quindi fate attenzione che riporti correttamente altrimenti siamo persi tutto il lavoro ok e all'incirca l'ingombro a terra è questo sembra che il disegno adesso stia venendo molto piccolo ma noi non ci dobbiamo spaventare di questo perché poi ritagliamo il disegno e ci fermiamo su questo frame su una dimensione del genere ok adesso accendiamo anche la vista frontale anche la pianta la scoloro abbasso l'opacità di tutti i livelli per non confondermi faccio un nuovo livello con le costruzioni delle varie parti posso anche poi dividere non so la costruzione del letto la costruzione di ogni mobile con un livello diverso se mi fa comodo probabilmente sì allora partiamo dal letto guardiamo come possiamo lavorare con la vista frontale e la vista in pianta per tirare le linee in prospettiva allora l'altezza del letto me la ritrovo qui vedete qui a terra questo è l'ingombro del letto sul fronte lo lancio in fuga e poi dalla pianta a terra mi tiro le altezze ricordate che adesso dobbiamo lavorare con dei semplicissimi parallelepipedi per posizionare le parti solo quello ci serve eccolo qua letto posizionato se voglio mi posso tirare su anche l'ingombro del cuscino questo ora il mio consiglio per non avere tutte queste linee facciamoci sempre un livello con il disegno definitivo mettiamolo in alto abbassiamo l'opacità della linea di costruzione del letto poi ripassiamo solo il solido che ci interessa così ci liberiamo di tutte le linee di costruzione e il letto fatto spegniamo le linee di costruzione teniamoci solo l'ingombro del solido scrivania quindi faccio un nuovo livello allora come facciamo fare la scrivania partiamo dal piano dalle cose più semplici il piano è questo lo lanciamo in fuga vedete che si trova più in alto non sta attaccato a terra poi dal disegno in pianta mi tiro su le verticali per trovare la posizione del piano che è questa di nuovo abbasso l'opacità di queste linee e vado sul livello disegno dove ho disegnato il letto per disegnare anche il piano della scrivania che mi pare sia venuto bello spesso volendo poi lo assottili poi tutte queste cose le rivediamo nel disegno finale ora posizioniamo le parti ok e nascondiamo le linee ora come facciamo con le gambe le gambe per la verità non sono un grosso problema mi faccio un altro livello mi disegno la forma delle gambe in maniera un pochino più precisa ed eccole qua partono da qui questa altezza sotto il tavolo questo è l'ingombro del tavolo superiore ora siccome questa faccia è rivolta direttamente verso di noi non si deforma mentre va in prospettiva si rimpicciolisce soltanto per esempio guardiamo questo lato del letto era un rettangolo qui è rimasto lo stesso rettangolo in prospettiva le linee che si deformano sono solo quelle che vanno verso a allora prendiamo questo rettangolo abbiamo l'ingombra a terra delle gambe vedete l'avevo segnato faccio ctrl t e lo scalo sulla dimensione del tavolo faccio coincidere faccio coincidere a terra la larghezza delle gambe ed eccola qua vedete questo è il tavolo in quel punto e mi copio questo livello per determinare anche l'ingombro della gamba in fondo ed eccolo qua e di nuovo nascondiamo cancelliamo le linee di costruzione della scrivania poi per determinare la profondità delle gambe per la verità è abbastanza semplice basta più o meno tirarla verso o e lanciare giù in basso cioè le piccole cose le possiamo tranquillamente fare a mano e avanti così anche per la poltrona e avanti così anche per la poltrona e avanti così anche per la poltrona ok abbiamo impostato l'ingombro di tutti i mobili ho messo quindi il disegno su un livello a parte questa sarà la struttura poi quando andremo a fare il disegno vero e proprio ora passiamo al resto della stanza così vediamo tutti i mobili nel contesto perché adesso ci sembra che siano piccoli all'interno di questa stanza ma ricordiamoci che questa che vediamo qui non è l'ingombro reale adesso che andiamo in fuga allora di nuovo un livello solo per la costruzione e poi le linee ce le andiamo a ripassare sul livello disegno il prospetto ce l'abbiamo cioè la vista della faccia frontale che è questa e lanciamo in fuga poi prendiamo i bordi della stanza e tiriamo su adesso come determiniamo la pendenza qui in fondo siccome sempre la faccia ricordate che si mantiene inalterata semplicemente dobbiamo tenere esattamente la stessa pendenza perché la forma delle facce che guardano verso di noi è sempre inalterata quindi mi faccio un nuovo livello mi disegno solo le linee del tetto poi sposto il livello e lo scalo CTRL T senza deformazione fino a farlo coincidere con le linee sul fondo ed eccolo qua e facciamoci un nuovo livello per la stanza poi cominciamo a tirare queste travi superiori farlo è abbastanza semplice basta che ce le disegniamo un pochino più regolari qui sul fronte e le lanciamo tutte in fuga ne faccio una poi mi copio il livello per tutte le altre questi sono tutti uguali CTRL T per ruotare adesso liberiamoci di tutti questi livelli uniamoli sempre e lanciamo tutto in fuga per capire dove interromperle ci teniamo per buona la linea del tetto la faccia della trave è attaccata al tetto e quella di sopra quindi in profondità questo è il punto della trave sul fondo della stanza per disegnare le facce sul fondo possiamo anche ridisegnare la faccia sul fronte su un livello a parte portarla sul fondo e scalarla con CTRL T senza deformazioni perché è una faccia che guarda verso di noi quindi non si deforma e abbassiamo l'opacità di queste travi senza cancellarle perché adesso ci disegniamo tutto il soffitto e poi lo ripassiamo sul livello del disegno al massimo cancello la parte in eccesso delle linee in fuga questa sì che mi può dare un po' fastidio poi posizioniamo le capriate e controlliamo a terra a che distanza si trovavano l'una dall'altra mi disegno il fronte della capriata in vera forma direttamente sulla fondamentale e poi lo copio in profondità lungo la stanza trovo la posizione delle varie travi sempre facendo riferimento alla griglia a terra a terra a terra mi segno l'ingombra a terra delle varie travi che avevamo impostato nella pianta di qua erano larghe più o meno mezzo quadretto ora per non far confondere i colori posso cambiare il colore di tutto quello che ho disegnato basta che faccio doppio clic sul livello vado su sovrapposizione colore e scelgo un altro colore mettiamoci blu vedete che questo effetto si annida sotto il nome del livello e lo posso spegnere e accendere o anche eliminare basta che lo seleziono e lo elimino vedete che ora che ho piazzato le travi sopra se ho disegnato correttamente quando tiro dal primo punto la fuga in o tutti gli altri punti mi li devo ritrovare sulla stessa retta quindi il punto in profondità deve sempre essere lo stesso verifichiamo qui allora vediamo come si disegnano le travi spengo tutto così non ho elementi fastidiosi nella scena lascio acceso solo il disegno delle travi allora partiamo da qui ho posizionato le tre facce frontali delle travi proprio copiandole direttamente nel disegno semplicemente riportandole a terra nella posizione corretta quindi ho trovato la posizione a terra ho tirato su e poi ho copiato la faccia scorciandola adesso devo aggiungere tutti gli spessori lo spessore della trave era di mezzo quadretto quindi mi prendo la dimensione di mezzo quadretto per trovare la metà ricordatevi che la metà in prospettiva non sta sulla metà reale ma vi dovete tirare le due diagonali e ricavare il punto medio che si trova più spostato verso la parte interna poi più o meno qua possiamo tranquillamente andare ad occhio quindi questa è la profondità della trave e la prendo chiaramente sulla linea che ben fu e no eccola qui disegniamoci in blu le profondità doppio clic sul livello sovrapposizione colore e selezioniamo il blu poi cominciamo a segnare tutte le altre profondità questa era facile perché si vedeva bene quello che succedeva le altre un pochino meno perché ce le dobbiamo ricavare togliamo di mezzo gli altri disegni altrimenti ci confondono ecco qua teniamo il disegno il più semplice possibile allora abbiamo disegnato questa trave qui abbiamo trovato la profondità ora qual è la profondità di questa trave inclinata? anche qui ce la dobbiamo ricavare possiamo farlo per esempio qui sul bordo tiro e no lancio sull'altezza ecco le facce che non vediamo quindi questa faccia dietro appoggerà parte da qui va in fuga e troviamo anche il punto d'appoggio della faccia sottostante eccola poi la direzione della linea che tiriamo è esattamente parallela a quella di sopra così e questa è la faccia nascosta lancio di nuovo in fuga e no eccola qua per prendere gli spessori di queste travi più piccole li prendiamo sempre dove abbiamo dei punti di riferimento per esempio ho lanciato in fuga da questo punto in giù ed ecco lo spessore me lo ritrovo sull'altra trave vediamo questa di qua qui non abbiamo riferimenti come facciamo? ci disegniamo la parte sul retro quella che non vediamo eccolo così ci possiamo tirare in fuga questa linea e trovare questo punto che è lo spessore della trave di qua su questa faccia che è nascosta adesso che lo ripassiamo lo vediamo meglio ridisegniamo tutto la faccia davanti resta inalterata ed ecco qua la capriata basta ripetere questo procedimento per le altre due e le abbiamo disegnate tutte adesso per non confondersi troppo con le linee che sono sopra o sotto per non cancellare le linee di costruzione coloro di bianco dentro vedete coloro di bianco dentro le parti delle travi per esempio così che il bianco nasconde le linee che ci sono sotto e io mi posso tenere il disegno completo faccio la stessa cosa per le travi ovviamente bisogna mettere i livelli in ordine quindi il livello che si vede prima che sta davanti va più in alto poi quello sotto e così via quindi partiamo dall'ultimo coloriamo di bianco vedete che copriamo le altre linee poi accendiamo la trave che sta davanti e coloriamo di bianco intanto questo disegno è solo una costruzione poi lo dovremmo rifare dovremmo ridisegnare sopra questo ci aiuta solo a capire come sta venendo senza cancellare le parti opacità al 100% ovviamente altrimenti questo non salga a nulla ok, già un po' più chiaro adesso disegniamoci le due finestre sul fondo sono anche dimenticata le mensole qui a destra allora le mensole le posizioni anzitutto in pianta abbiamo detto che si trovano in questa zona le disegno direttamente in prospettiva ora non è importante mi interessa solo come vengono quindi non serve rispettare le misure le mettiamo qui lunghe più o meno così e me le tiro su un verticale sul muro poi disegniamole sul fronte e qui in vera forma scegliamo l'altezza ne mettiamo magari una a questa altezza e una un po' più in basso dell'orizzonte lanciamo in fuga vediamo che spessore hanno più o meno così facciamo sottili e via in fuga questo è lo spessore delle mensole qui sul muro adesso non ci resta altro da fare che tirare le facce frontali e via di nuovo in fuga poi la profondità la prendo sul muro o a terra l'ho già segnata vado su ecco qua e mi disegno le mensole per disegnarmi le finestre prendo direttamente il prospetto che avevo disegnato della stanza questo e me lo scalo fino a farlo coincidere con la faccia sul fondo senza troppa difficoltà mi sono trovata l'altezza e la posizione delle finestre sul fondo siccome abbiamo aggiunto anche una finestra qui sul lato mi tiro le linee di costruzione anzitutto quindi mi lancio l'altezza massima della finestra e il punto più basso da qui, da questi due punti mi tiro da O queste fughe in modo da trovare la posizione della finestra alla stessa altezza anche sulla faccia laterale siccome sono cerchi come sempre mi devo disegnare il rettangolo che ingloba i cerchi qui sul fondo è facile basta che faccio più o meno così adesso usiamo lo strumento cerchio per disegnarli correttamente qui di lato vedete che me l'avevo segnato a terra l'ingombro della finestra mi si trova va da qui a qui quindi anche qui mi tiro su l'ingombro e ho trovato il quadrato che circoscrive il cerchio della finestra ora chi lavora a mano si disegna le diagonali per trovare il punto medio e trovare in questo modo il punto più alto del cerchio quello più basso quello più interno e quello più esterno e poi a mano si disegna la finestra facendo passare il cerchio per quei punti invece noi privilegiati di Photoshop disegniamo un cerchio e lo strecciamo quindi prendiamo lo strumento cerchio strumento ellisse riempimento lo impostiamo nessun riempimento quindi rettangolino bianco con trattino rosso prendiamo il nero per la traccia prendiamo un paio di pixel per seconda di come avete fatto con lo grosso il foglio e ci disegniamo il cerchio schiacciando shift per avere un cerchio perfetto non è proprio perfetto lo ingrandisco ctrl T e lo modifico eccone uno lo duplico per l'altro il disegno che avevo fatto prima era a mano quindi è normale che non sia perfetto e poi andiamo a disegnare il cerchio stracciato sulla parete scorciata quindi facciamo modifica trasforma distorci e facciamo concidere come avevamo fatto prima in pianta i quattro punti del quadrato con quadrato strecciato in prospettiva ed eccola qua la finestra questa finestra aveva degli infissi a croce quindi ci serve comunque il punto medio anche qui sulla parete perciò mi tiro la x per trovare il centro ed ecco qua la posizione dell'infisso invece per i cerchi in fondo è più semplice perché la vedo perfettamente frontale uniamo tutti le ellissi rasterizziamo il livello perché finché vedete queste goncina qua in basso quello è un livello vettoriale a noi adesso non serve quindi tasto destro rasterizza livello così ci possiamo disegnare sopra altrimenti non avremmo potuto ci disegniamo gli infissi non ci dimentichiamo un'ultima cosa questa finestra mostra anche la profondità del muro che dà verso l'esterno anche questa per la verità si vedrà di sicuro una parte che va scorciata in prospettiva quindi disegniamocela siccome io mi sono disegnata anche qui in basso l'ingombro vedete la larghezza lo tiro su e mi disegno proprio il parallelepipedo vedete che adesso ho trovato anche la faccia dietro quindi mi faccio un altro cerchio e lo streccio modifica trasforma distorce facendo coincidere 4 punti del quadrato con la faccia sul retro e facciamo la stessa cosa per le finestre sul fondo ma magari togliamo subito tutte queste linee di costruzione altrimenti ci confondiamo le idee uniamo tutti i livelli delle ellissi e cancelliamo le linee che non ci servono per esempio questa parte del cerchio non ci interessa perché sta nella parete esterna disegniamo anche la profondità dei cerchi sul fondo per farlo facciamo sempre la stessa cosa disegniamo il parallelepipedo che ingloba la forma come abbiamo fatto col cilindro negli esercizi adesso questo spessore lo facciamo un pochino a occhio perché a terra non abbiamo dei riferimenti l'importante è che sia coerente tra i due cerchi con quale ellisse prendo solo queste due le copio e le scalo fino a farle riportare con la faccia dietro scalo stavolta non streccio perché essendo questa una faccia rivolta perfettamente verso di noi non ci sono distorsioni ed eccoli qua vedete i cerchi sono inglobati nella faccia dietro finalmente cancello le linee di costruzione unisco tutti i livelli e volendo mi posso cancellare le linee che non mi servono così abbiamo individuato la profondità oh la libreria è finita di fronte al cerchio certo l'avevo disegnato di fronte al cerchio ma sposto un pochino indietro nessun problema è un pochino indietro adesso potete disegnare un parquet e delle assi sul soffitto per farlo uso anche qua un trucco cioè attivo la griglia visualizza mostra griglia lo metto in un angolo e mi disegno un quadrato con tutte le linee verticali ok poi spengo la griglia perché abbiamo visto che è molto fastidiosa visualizza mostra e tolgo la spunta dalla griglia questo l'ho fatto sul livello a parte me lo duplico perché adesso lo uso due volte una per il soffitto e una per il parimento poi lo sposto e vado su modifica trasforma distorci e poi per il soffitto li metto nell'altro verso modifica trasforma distorci ora in base alla scansione delle assi sul soffitto ci disegniamo le due finestre adesso qui devo prendere una decisione siccome la trave principale copre di molto la mia finestra ho deciso di farne una unica che arriva fino in fondo così che in questa zona qui almeno abbiamo una vista è è è è è Grazie a tutti Grazie a tutti Adesso finalmente ci possiamo divertire e disegnare sopra questa struttura Andare ad aggiungere oggetti sopra i mobili Arrotondare qualche spigolo Lo potete fare direttamente qui sopra Ma siccome già questo file è molto pasticciato Abbiamo una marea di livelli Ora mi riporto questo disegno direttamente su un foglio nuovo Ctrl C, Ctrl V sul nuovo foglio E scalo tutto e scelgo l'inquadratura Adesso utilizzando questa struttura come base Aggiungo tutti gli altri elementi che non avevo messo Aggiungo i libri, gli oggetti sul tavolo, i cuscini Non mi serve una costruzione prospettica per fare queste cose La imposto più o meno ad occhio perché ho tanti riferimenti Per esempio per i libri sulle mensole Ho la dimensione delle mensole Ho comunque sempre il punto di fuga per tirare le rette che vanno in fuga Quindi senza preoccuparmi troppo della correttezza prospettica Disegno tutti questi particolari Una volta deciso il disegno finale Finalmente posso sbiadire tutti i livelli E ripassare sopra impostando una lineart Con la lineart vi potete sbizzarrire Potete scegliere voi se utilizzare una lineart che sembri fatta a mano Quindi non utilizzare linee dritte Ma cercare di ripassare tutto a mano libera Che è quello che ho deciso di fare io qui Oppure potete fare delle linee perfette Quindi schiacciare shift per impostare tutti gli elementi in prospettiva Insomma sta a voi scegliere lo stile del disegno Poi per quanto riguarda la colorazione Io ho deciso di fare una scena notturna Quindi ho utilizzato dei colori molto freddi Ho impostato tutto il disegno sul blu Non ho usato nessuna tecnica particolare per colorare Ho semplicemente diviso, come faccio sempre, i livelli per materiali E ho utilizzato solo due tipi di pennelli Il pennello tondo base di Photoshop E un pennello con una texture Trovate sempre nei pennelli di Evan & Design Che vi avevo dato nelle prime lezioni del corso di Photoshop E ovviamente l'immancabile strumento sfumino Ora in questo video vi sto mostrando solo alcune parti del disegno e della colorazione Vi lascio il link al video con il timelapse di tutto il disegno Così potete vedere pian piano i passaggi Buon divertimento, provate anche voi a disegnare una stanza E fatemi sapere com'è andata Ciao e alla prossima!